Comandamento Nel Comandamento Conosciamo questi dieci comandamenti, però vi voglio far vedere un comandamento che è nascosto in un altro comandamento. Questo comandamento si trova in Esodo 20, dal versetto 8 in poi, 8 e 9. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Versetto 9 dice, lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro. Bene, per la prima parte ci rivederemo un'altra volta. Parleremo un'altra volta di questa parte, ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Questo versetto va ancora avanti ma io voglio fermare sul Esodo 29. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro. Cosa vuol dire lavora sei giorni? Allora, io lavoro cinque giorni alla settimana. Io lavoro da lunedì fino a venerdì, il sabato vado in chiesa e la domenica sto davanti alla televisione. Non è questo il concetto biblico. Il concetto biblico dice, lavora sei giorni. Non so tu, ma tu quando lavori stando davanti alla televisione, stando davanti al computer, stando a guardare forse video su Televive, ma anche il sesto giorno, tutti i sei giorni sono stati fatti per lavorare. Bene, ho parlato con un ragazzo una volta e gli ho fatto vedere questo testo e ha detto, il Signore ti vuole veramente bene, vuole che tu lavori sei giorni, ma vuole pure che poi tu ti riposi, ma vuole che lavori sei giorni. E questo era un ragazzo che gli piaceva lavorare e tramite questo versetto lui ha trovato pure a Cristo. Bene, voglio citare un autore, Ellen White, che è scritto in un libro che si chiama In Cammino. In questo libro c'è scritto, gli operai di Dio dovranno essere forti e irremovibili, perché Satana lavora instancabilmente per sedurli. Allora, aspetta, gli operai di Dio? Se noi siamo operai di Dio, come scrive qua Ellen White, e dobbiamo essere forti e irremovibili, allora dobbiamo pure lavorare per Dio, perché un operaio lavora. Bene, è molto interessante questo pensiero, perché noi non lavoriamo solo su questa terra, ma il lavoro che intende pure la Bibbia è il lavoro spirituale. Voglio leggere un altro citato di Ellen White, nel libro Consigli sull'economato cristiano. Lo spreco del tempo e la mancanza di impegno portano all'indincenza e alla povertà. Molto interessante questo versetto. Allora se io spreco il tempo con cose inutili, divento povero. È vero, no? Se io due anni non vado a lavorare, ma sto due anni a guardare solo la televisione, i soldi non entrano. Anzi. C'è nel libro Corinzi, nel primo Corinzi, in questa epistola di Paolo, nel capitolo 9, versetto 14, dove dice, similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Cosa vuol dire vivere del Vangelo? Bene, qua Paolo scrive che uno che lavora nel Tempio deve vivere pure del Tempio. Allora questo vuol dire, per esempio, la decima. Uno che viene pagato dalla decima, deve poter vivere da questa decima. Ma Gesù dice, in Matteo 4,4, ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla poca di Dio. Vedete, è la stessa cosa. Uno che predica deve vivere del Vangelo, ma non solo quello che predica, anche solo quello che ascolta la parola di Dio. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla poca di Dio. Ennuet scrive su Consigli sull'economato cristiano, l'uomo comune lavora per acquisire ricchezze terrene e temporane, accumula tesori facendo proprio ciò che Gesù gli ha ordinato di non fare. Allora questi sei giorni che noi leggiamo nel quattro comandamento, non sono sei giorni lavorativi. Certamente dobbiamo guadagnare pure i nostri soldini qua, così possiamo pure mangiare, possiamo dare mangiare alla nostra famiglia. Ma quale scrive che accumulando tesori facciamo l'opposto della volontà di Gesù Cristo? Facciamo l'opposto di quello che ci ha detto Gesù? Noi non accettiamo la legge com'è. Avanti scrive però, e parla sul cristiano vero, Il cristiano sincero apprezza l'avvertimento di Gesù e addiempia quindi la sua parola, facendosi un tesoro in cielo come il Redentore del mondo gli ha indicato di fare. Hmm, molto interessante. Anche noi qui ci possiamo fare un tesoro, ma nel cielo. Guadagniamo qui, sì, il nostro pane quotidiano, ma dobbiamo lavorare pure per farci un tesoro in cielo. Ma come posso lavorare io su questa terra e facendomi un tesoro nel cielo? Come si può fare? Io lavoro dal lunedì fino al venerdì per la mia ditta, il sabato vado in chiesa, non si lavora, ma la domenica? Ecco, vi dico che i giorni liberi, tipo la domenica, oppure i giorni festivi, sono i giorni più adatti per farsi un tesoro nel cielo. Per farsi un tesoro nel cielo, cosa vuol dire? portare altre persone a Cristo, far conoscere l'Evangelo alle altre persone. Elnouet scrive avanti ancora nel suo libro, concentra i suoi interessi sulle cose celesti, dove Cristo è seduto alla testa del Padre. Non appessa la sua capacità di guadagnare denaro, ma impiega tutte le sue forze a ricercare le conoscenze spirituali. e in questo modo tutti i talenti che gli sono stati affidati sono apprezzati come doni di Dio che devono essere impiegati alla sua gloria. Vedete, Gesù Cristo c'era dei doni, c'era dei doni che noi dobbiamo usare nella nostra vita quotidiana, ma anche nella nostra vita spirituale, nella vita dove possiamo aiutare a Dio. Bene, Elnouet scrive che non ha perso la sua capacità di guadagnare denaro, l'uomo cristiano sincero, anzi, vi posso dire che un cristiano sincero che lavora per la sua ditta, per il suo mestiere e lavora contemporaneamente anche per il Signore è un cristiano molto ben detto. Perché non solo guadagna i soldi su questa terra senza farsi tesori come scrive Elnouet, ma si fa anche tesori nel cielo. Si fa tesori nel cielo affinché può rivedere un giorno una persona che lui ha portato lì. bene, ve lo auguro anche voi che voi potete vedere questo che ho visto anche io in questo quarto comandamento, questo comandamento nel comandamento e che lo potete accettare pure e che lo pratichiamo nella nostra vita e che nei giorni festivi dove non dobbiamo andare a lavorare anzi di sederci davanti alla televisione sederci davanti ai computer andiamo a lavorare per il Signore andiamo a lavorare per Cristo come ha fatto Lui a porta a porta a portare l'Evangelo alla porta dei uomini delle donne dei bambini da fuori che ancora non ho sentito mai ve lo auguro questo e credetemi così si possono fare tante esperienze con Gesù Amen grazie a tutti